Buonasera, sono Carlo Vasta, collaboro con un WISP locale ed installo RF Elements. È una buona antenna. È una tecnologia diversa, anche a livello di spazio c'è un ingombro minore, dove possiamo mettere due antenne paraboliche, possiamo mettere fino a quattro antenne settoriali. Il prodotto mi sembra eccezionalmente buono, lo utilizzeremo per quanto riguarda il nostro WISP, NetWireless.it. Hello, I'm Stefano, I'm from Italy, I saw this presentation about these strange and different antennas, strange and different than usual. It seems to be really interesting for us because we usually make infrastructure with Cambium APMP, and so having a different antenna that adds something good to a commercial product should be a good idea for us. So let's give a try to that guys and I hope it really works, as you said.